È da un po' di tempo che non riesco più a stare male. E ho appena finito la mia meditazione e volevo condividere con voi questa cosa. Siccome ultimamente si parla molto dell'essere felice, del manifestare, di tutte quelle cose che ti impediscono di raggiungere un po' lo star bene, perché dallo star bene puoi fare quello che vuoi, perché se vuoi manifestare, se vuoi raggiungere qualcosa, sia a livello materiale ma anche a livello interiore, la base insomma è che stai bene, è quella di stare bene. E se non stai bene è difficile fare qualsiasi cosa, diventa veramente una priorità. Diciamo tutto il resto è un po' come quando stai male di salute e tutto il resto perde un po' quella priorità. Puoi avere tutti i soldi del mondo, quello che vuoi, ma nel momento in cui hai mal di testa tutto il tempo oppure vai in ospedale, diciamo che quello perde un po' la priorità. Ecco, quindi diciamo che ultimamente è un po' un argomento a cui penso spesso, è un argomento a cui mi riferisco spesso anche nei miei video, lo vedete nei miei ultimi video, nei miei ultimi contenuti, parlo spesso di questa un po' conclusione a cui sono arrivato dopo tanto tanto tempo e dopo tanta anche esperienza da un punto di vista mio, interiore, pratiche, terapia, sessioni, persone, interviste, ma anche libri, podcast, interviste, qualsiasi cosa, anche semplicemente proprio una crescita mia da un punto di vista di esperienza quello che è capitato a me e dopo che veramente arrivi a un punto in cui ho provato di tutto ti accorgi che niente funziona e vi voglio spiegare il perché, vi voglio spiegare il cosa succede. Diciamo che è da un po' di tempo che faccio veramente fatica a stare male. In che senso? Nel senso che per quanto io ci provi, vedo tipo il pensiero negativo, mi arriva e dico ah ok, quella è depressione, ah ok, quella è ansia, ah ok, quello è paragonarsi agli altri, ah ok, quella è fumo, ma è un po' come quando vai al cinema 4D e tipo c'è un po' di feedback, ma vedi quella cosa, vedi il film, senti quella cosa, la vedi proprio tipo la senti, non so, il fruscio che ti fanno in pancia, senti l'aria addosso, senti l'acqua, lo senti in un certo punto specifico, ma non sei tu, cioè non ti dà fastidio, non sei in quella cosa completamente. Ed è un po' quello che mi sta succedendo nell'ultimo mese, mese e mezzo, da quando ho vissuto un po' di più questa cosa. Perché non è quello che vi sto parlando un concetto, non è un qualcosa che per me è un'idea che vi sto parlando, è proprio un'esperienza, per me è proprio qualcosa che è piano piano arrivata nel tempo e che sto vivendo tutti i giorni. Quando vi parlo della mia parte interiore non vi sto prendendo quello che imparo da un libro, da un video o da altre cose e ve lo sto riportando, no, vi sto portando la mia esperienza. E mi sono detto, ma come mai questa cosa? Cioè, cos'è che hai cambiato? A parte, vabbè, tutto il percorso, insomma, che ti porta un po' a questa cosa, ma diciamo che la cosa che è cambiata un po' più grossa è il, ok Marco, lo star bene, ma come? Come? E per quanto uno provi, come ho provato anch'io quando, diciamo, sono andato, come vi ho fatto vedere, tempo fa, la cosa di andare dallo psicologo e fare tutto questo percorso da un punto di vista mentale, per quanto ci provi a sbrogliare queste cose complicate della mente, non ce la fai, è perché rimani comunque nella mente, è perché partiamo dal presupposto che, ok, noi abbiamo questo strumento che è la mente, abbiamo questo strumento che è il corpo, sono accumulazioni di cibo, accumulazioni di impressioni che abbiamo dall'esterno, fin da quando siamo piccoli diventano sempre più grandi. Il problema cos'è? Il problema è che ci dimentichiamo che questa cosa che è la mente è un nostro strumento, ma non siamo noi. E quindi nel momento in cui ti crei questo personaggio, questo ego, ti crei i tuoi desideri, il tuo futuro, la memoria, il passato, gli obiettivi, i sogni, gli amici, la famiglia, le etichette che dai alle cose, le cose che impari, ci dimentichiamo che è tutto qui, è tutto creato nella nostra testa, è tutto qualcosa che mi sono creato da solo. E se me lo sono creato da solo, è mia responsabilità. Quindi è vero, posso io in qualche modo scegliere questo drama, questa cosa che è nella mia testa, come voglio che vada. E nel momento in cui mi sono accorto di questa cosa, che ho questa responsabilità, che anche se all'esterno succede qualcosa, io comunque anche lì ho la responsabilità su come rispondo a questa cosa, all'inizio fa un po' paura, ma poi ti crea proprio libertà, perché vedi le cose, diventi quel testimone silenzioso, ma non ti toccano più e quindi puoi giocarci di più. E quindi tu hai provato di tutto, hai provato qualsiasi cosa, sei andato, dici ok, perché l'altro giorno per dirvi, mi è capitato di parlare con questa persona che mi ha detto, ma guarda io ho questi problemi, faccio questo, quindi cado in questi pattern, mi sono accorto di questo, e dentro di me ho subito pensato che bravo, ha comunque fatto un suo lavoro interiore mentale ed è arrivato a capire i suoi problemi del passato. E ci sta lavorando. Ma poi ho pensato, può lavorarci veramente all'infinito? Cioè tu, i problemi della mente, la mente è talmente complessa e lavorata che puoi lavorarci all'infinito, ma non arriverai mai a una soluzione. Soprattutto più vai avanti, più la tua immaginazione, la tua memoria diventano sempre migliori e quindi è come se continuassi a crearti sempre di più narrative complesse in cui ti identifichi e diventa sempre più difficile, sempre più difficile. E quindi non è tanto questione di cercare di migliorare la mente, ma è questione proprio di uscirne. E come uscirne? È un po' come voler cercare di mettere a posto la spazzatura, rimanendo comunque ancora nel cestino. Non ce la fai. Ti serve un po' di prospettiva, ti serve uscire. È un po' come cercare di sconfiggere, di eliminare l'oscurità combattendo l'oscurità. No, devi o portare luce o uscire dall'oscurità e quindi o porti pensieri positivi o smetti di essere nella tua testa, quindi esci dalla tua testa e togli il problema alla radice. Ma come fare? Il modo per fare questa cosa, per uscire dalla testa, è o con la pratica, quindi la meditazione serve a questo, il percorso interiore serve a questo, inizia a meditare, crea un piccolo spazietto tra te, la tua mente e le tue accumulazioni, il tuo corpo e pian piano, pian piano, pian piano, un giorno apri gli occhi e ti accorgi che questa prospettiva ce l'hai anche durante la giornata. È come quando scoprirono che la Terra non è piatta. Quando sei qua, la tua esperienza di vita ti dice la Terra è piatta, te ne vai un po' più in alto e hanno detto la Terra forse è piatta, forse no. Hanno preso una mongolfiera, un aereo e hanno detto ha qualcosa di sferico la Terra, ma non è detto. Siamo andati sulla Luna e hanno detto la Terra è definitivamente sferica. Quindi cos'è servito? Lontananza. è servito uscire dalla Terra per capire com'è veramente la Terra. È la stessa cosa con la mente. Tu puoi cercare di risolvere tutti i problemi che vuoi con la mente, ma in ogni caso sei sempre lì nella mente. Rimani sempre lì. Quindi ti accorgi, la mente non funziona per farti stare bene, può funzionare per farti stare bene, ma se sai utilizzarla, quindi devi imparare a utilizzarla. e o esci dalla mente con la meditazione, pian piano con le pratiche, o quando senti un pensiero negativo, torni qui ora, quindi esci dalla mente. Ti concentri, vedi un pensiero negativo, lo senti, il problema cos'è? Il problema è imparare a sentire queste cose, perché quando ci sei dentro ti sembri, non te ne accorgi neanche, diventa una cosa compulsiva, sei tu quella cosa negativa, e invece quando pian piano con la meditazione ti accorgi, dopo un po', sei consapevole di quelle sensazioni negative, dei pensieri negativi che arrivano, quando li senti, li guardi, senti dov'è, e torni qui e ora. Torni a concentrarti su qualcosa di esistenziale, sulla vera creazione invece della creazione che ti sei creato tu. Torni a concentrarti sul respiro, sugli odori, sui sensi, sul vento, sui rumori, su cosa c'è qui e ora. E ti accorgi che quella cosa è autocreata. Se vuoi puoi continuare a createla. Se non serve, dice la mente, che è un tuo strumento, non mi serve questa cosa, mi fa solo star male, e quindi molli la cosa. Oppure dici, mi può servire perché mi motiva, allora continui. Oppure dici, cerchiamo di capire perché la mia mente pensa così, da cosa sta cercando di proteggermi pensando così. quindi non è questione di evitare di usare la mente, è questione di saperla utilizzare quando serve e nel modo corretto, non identificandoti con essa. e ti concludo per farti capire bene il discorso con questa metafora che mi sono inventato, di cui ho parlato anche nel video precedente, e che secondo me è molto utile per capirla. e immaginate di essere in campagna e di volervi godere questa gita in campagna, che è la vita. La vita. Invece che avere una bicicletta per godervi questa gita in campagna, vi hanno dato una navicella spaziale. E quindi bella, bellissima, che è la mente, ma complicatissima, e quindi inizi a entrare nella navicella spaziale, inizi a premere a tasti a caso perché non sai come funziona, e ovviamente finisci non solo con l'andare a destra, distruggere tutto e un po' a farti del male, ma anche ti dimentichi dopo un po' di essere nella navicella spaziale all'interno della campagna. Quindi ti dimentichi che sei qui per divertirti, ti sembra di dover fare altro per raggiungere un scopo di felicità e quindi ti metti a fare altre cose. Pensi che forse è premendo quel tasto lì e quel tasto lì che raggiungo la felicità. È quello che mi fa star bene. No. Questa cosa ti è stata data solo per goderti al meglio questa esperienza, vivertela al meglio, imparare le cose. Ma la stiamo usando in un modo sbagliato. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna prima di tutto smettere di premere tasti a caso. Quindi la meditazione serve a questo, imparare a smettere innanzitutto di usarla mente quando non serve. e poi imparare a uscire dalla navicella, guardarti attorno e imparare a studiartela pian piano. Pian piano più, come dicevo prima, con la metafora della terra che si allontana, allontanarsi per capire la terra, quando ti allontani dalle cose le capisci meglio. La stessa cosa ti allontani e pian piano impari a utilizzarla quando serve, ma godendoti la gita in campagna. È un po' anche la metafora del pozzo, questa cosa può essere anche applicata a un pozzo. Invece che essere qui e ora, che sei già in unione con tutto, sei a posto, entri nella tua testa, entri in questo pozzo sempre più in profondità, sempre più in oscurità, e ti dimentichi la luce là in alto. Ti dimentichi di essere unito col tutto. Ti senti sempre più solo. Nei tuoi pensieri entri sempre di più. E per quanto sembri qualcosa di confortevole, è un pattern che ti porta sempre più giù. pensi che sia qualcos'altro doverti portare alla felicità, invece che semplicemente smetterla di fare cose. È un po' come una sabbia mobile. Più ti muovi e più ti porta giù. E più ti senti solo, e dimmi che cos'è la solitudine, se non l'incubazione per altre cose croniche, come la depressione, l'ansia, eccetera. e invece di cercare di fare cose nel pozzo, devi semplicemente tornare alla tua situazione iniziale. Come dicevo all'inizio, la felicità è homecoming, è tornare a casa, tornare alla fonte. Quello che è nella religione, tornare alla fonte, al divino, all'essere unito con tutto, yoga significa unione, è sempre la stessa cosa, è tutto connesso, ragazzi, ed è tutto lì. Goderti questo pozzo, quando serve prendere l'acqua, quando non ti serve, la lasci lì. Quindi è questo un po' il significato di tutto. È per quello che per le persone, gli esercizi di gratitudine, journaling, eccetera, fanno bene, o dicono che sia una cosa bella. Perché? Perché nella metafora della stanza è il portare la luce, invece che uscire dalla stanza, è concentrarsi su qualcosa, comunque nella testa, ma che ti porta a star bene. Ma il punto cos'è? Che così puoi andare avanti e ogni tanto puoi portare luce, ma comunque il buio ogni tanto arriva perché non ne sei sempre consapevole. Il segreto è imparare a uscire dalla stanza, e quando serve entrarci, accendere la luce, prendere quello che ti serve, esci, spegni la luce, o quello che vuoi. Questo è un po' il segreto. Come la vita, invece che viverti la mente e la vita da un punto all'altro, pensare di, come una scalata, dover arrivare a un punto per star bene, semplicemente, vivertela come un ballo. Vivertela momento per momento. Il significato, lo scopo del ballo non è arrivare a un punto e morire provandoci e la essere felici e intanto star male. No, è il ballo stesso, è goderti il ballo di per sé. La stessa cosa deve essere la vita, devi usare la mente per goderti il ballo e viverti il ballo al massimo. Puoi avere qualche vocazione, qualche obiettivo, ma dare il massimo e viverti il qui e ora con l'obiettivo all'interno della mente, ma non che quella cosa diventi il punto in cui fino a quel momento là non puoi essere felice. Anche perché solo essendo tranquillo e felice, senza tutti questi problemi e dentro la tua testa, dentro la tua narrativa, dentro tutto questo casino, puoi stare bene e fare le cose fatte al massimo. Se invece sei dentro di lì, hai paura di tutto e la paura non ti fa raggiungere niente. Se invece parti da questo senso già di unione col tutto, la paura ti abbandona. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video.